Ciao, sono Caterina, cercavo casa a Piacenza, mi sono affidata di casa perché aveva degli immobili che mi interessavano e mi sono passata prima in ufficio e mi hanno mostrato diversi appartamenti immobili. Quando ho trovato quello che mi interessava mi hanno portata sul posto, mi hanno mostrato insieme anche alla proprietaria l'immobile e poi quando ho scelto appunto la casa che mi piaceva, che faceva per me, mi hanno aiutato anche in tutte le pratiche e diciamo con tutte le scartoffie varie, quindi consigli di casa mi sono trovata molto bene.